Ciao sono Giuseppe Fiori Questa è la seconda pillola di Alezione Con In questo caso prendiamo in considerazione un altro pezzo di Rezofonic Diciamo una delle prime cose che mi è capitato di suonare Quando ho iniziato la collaborazione con Mario E' stata una delle prime cose che abbiamo visto insieme in sala prove Per cui è un pezzo a cui sono molto affezionato E' un pezzo molto basato sul basso Nel senso che il riff di basso è centrale per quello che riguarda l'economia del pezzo Nel senso che poi arrivano delle chitarre, arrivano un sacco di voci, un sacco di featuring Nel senso che è un pezzo a cui hanno collaborato da Rocco Sifredi A Jake Lafuria, insomma chi più ne ha più ne metta Cristina Scabri e Lacuna Coil, me ne vengono in mente ma ce ne sono tantissimi Nino Frassica, piuttosto che Giobbe Covatta Insomma un pezzo pieno di collaborazione Andatevelo a vedere su YouTube Il pezzo è basato su un riff principale di basso Che si sviluppa, a differenza di quello che succede spesso con il basso Anziché in orizzontale, è un riff che si sviluppa in verticale Cioè dall'alto al basso, in questo modo Lo faccio vedere anche più piano Partiamo dal Fa, quarta corda Fino ad arrivare giù in fondo sul Sol Quindi le quattro corde del basso a quattro corde Questo è una 5 ma non lo prendiamo in considerazione in questo momento Il bello è che suonandolo in verticale La sua particolarità è che sviluppi quasi un accordo L'accordo di Fa E il bello è che scendendo con il pletro Io questa l'ho suonata col pletro Cioè sul disco che dal vivo Perché ha più attacco Quindi se per caso qualche bassista o qualche maestro Vi sconsiglia di suonare col pletro Voi non date di ascolto Perché questo è un po' un paradosso Però io mi sono sempre scontrato con gente Che mi ha detto di non suonare con il pletro, il basso Invece ho scoperto che La differenza su uno strumento come questo È che il pletro in certe occasioni, non in tutte Fa la differenza a livello di attacco Quindi hai un suono molto più penetrante nel mix Molto più solido, molto più diretto Rispetto a quello delle dita Che ha un attacco più morbido Più bello per tante altre cose Ma per un pezzo come questo Io sono convinto che sia la strada migliore Per cui arrivederci alla prossima lezione Domani, sempre su questa frequenza Di Rocker TV Giuseppe Fiori A lezione con